Si rinnova il legame tra il corpo della Guardia di Finanza e San Matteo, patrono dei finanzieri. Dopo la burrascosa processione dello scorso anno, quando era stata eliminata la tappa all'interno della processione, nella caserma della Guardia di Finanza, ripristinata comunque autonomamente dai portatori, la reliquia del patrono di Salerno è tornata a benedire le fiamme gialle. Così come previsto dal programma religioso messo a punto dalla diocesi, l'Arcivescovo Mons. Luigi Moretti ha tenuto un momento di preghiera nella caserma di Via Duomo a Salerno con la benedizione ai finanzieri. Il ruolo che la Guardia di Finanza svolge è decisivo, proprio per la crescita di una comunità umana, quindi della società. E loro non sono solo per reprimere, ma credo che la loro presenza è una sfida veramente all'educare alla coscienza civica, al senso della legalità, al rispetto tra le persone e delle regole che le persone si danno. Non c'era da rinvigorire un rapporto fra noi e San Matteo, il rapporto è sempre stato molto forte, lo è stato sempre. È bello, come ho detto prima, che Sua Eccellenza l'Arcivescovo abbia voluto sottolineare con un gesto visibile per tutti, però dentro di noi lo riconosciamo ormai da un bel po' di tempo, San Matteo come nostro patrono. La Guardia di Finanza ha anche ottenuto una prossima nuova visita da parte di Moretti, che benedirà la cappella inserita nel complesso della caserma di Via Duomo, in via di restauro. Abbiamo una piccola cappella, perché questo complesso che ospita la caserma, originariamente credo fosse un convento, che necessita di ristrutturazione. Ho strappato, ho estorto la promessa all'Arcivescovo che verrà benedirla quando saremo pronti. Grazie.